La realtà non mi piace più, la realtà è scadente, tutte risate, battute e brillate, ma cosa cazzo fa il brillante? Ed è per questo che in nome della pizza bianca con la mortadella calda dichiaro ufficialmente aperta la sede di Netflix Italia. Il grande piacere è di chiamare qui sul palco Reed Hattig, così oltre il fondatore di Netflix. Benvenuti alla casa italiana di Netflix. È così meraviglioso di iniziare con questa facility, con tutti i creatori che abbiamo oggi. È un'ottima onore. Sara Furio, direttrice dei film per l'Italia in Netflix. Chiamo qui sul palco la vicepresidente per le serie di Netflix, Vinny Andreatta. Sono fiera di poter annunciare che ci sono i primi progetti che sono stati realizzati, mettendo al centro il grande talento delle nostre star. Giovanni Bossetti, manager per i contenuti non fiction italiani di Netflix, che ci guiderà nel mondo della non fiction italiana. Giovanni Bossetti, manager per i contenuti non fiction italiani di Netflix. Giovanni Bossetti, manager per i contenuti non fiction italiani di Netflix.